No all'antenna, riduciamo l'elettrosmog nel centro cittadino. Oltre 200 firme sono state raccolte ieri mattina in piazza Vittorio Emanuele. Il Movimento 5 Stelle di Vallo della Lucania ha avviato una petizione per chiedere al Comune di avviare il procedimento per la rimozione di un'antenna a Telecom. L'impianto è posizionato in pieno centro cittadino, a pochi passi dall'isola pedonale e a poche centinaia di metri da scuole e da altri edifici pubblici. L'impianto è stato installato oltre 40 anni fa come antenna SIP, oggi Telecom, e non è la prima volta che finisce all'attenzione dell'opinione pubblica. Da tempo si è parlato di una sua rimozione, ipotesi avallata dalla stessa amministrazione comunale che nel 2013, nel suo piano per la riqualificazione del centro storico, ne previde lo spostamento. Finora però nulla è stato fatto. In queste immagini, realizzate con un drone, tutta l'imponenza del traliccio e dell'antenna, situata al centro tra due palazzi dove vivono decine di famiglie. Di qui la decisione dei Cinque Stelle di avviare una raccolta firme. Arrivate ad 800 sottoscrizioni, il Consiglio Comunale avrà l'obbligo di esprimersi in merito. Il Movimento dei Grillini in merito ascolterà anche il parire degli esperti ed ha in programma diversi incontri con la cittadinanza. La raccolta firme proseguirà nei prossimi giorni, sia a Vallo che nelle frazioni. Sì, è un'iniziativa, questa penso, importante perché credo che ci interessi tutta quando c'è la nostra città. Il problema dell'antenna che sta al centro del paese, sono anni che si sta dicendo che è giusto rimuoverla. Sappiamo pure che ci sono alcune difficoltà per questo, perché chi ha messo questi ceripetitori sopra magari poi vuole spostarli su altri posti. Non sappiamo se veramente fa male, sappiamo però che è brutto. Quindi avere uno scheletro, uno scempio, come tanti hanno detto, al centro della nostra città, non sembra bello. Quindi noi stiamo tentando, se arriviamo a raggiungere 800 firme, che è il numero minimo per portarloci in consiglio, e andiamo a fare questa istanza, appunto, cioè l'amministrazione, sperando che ci venga accolta.